Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio del Not So Berry Challenge. Allora, entriamo subito nel vivo del gioco, io sono letteralmente appena entrata nella partita, sono quasi le 5 del mattino, sono stranamente tutti svegli e di buon umore, spiegatemi chi è sveglio di buon umore alle 5 del mattino, ma quello è un discorso a parte e niente, andiamo avanti, infatti tutti svegli, tutti di buon umore e se tutti stufi, vabbè, non importa. Chi è che sta venendo a rompere? Lei, benissimo, mi avete già cominciato ad esortare a mandarla via, cioè della serie durano quanto due episodi e poi è ora di andare via, anzi di mandarle via, che credo sia il termine più appropriato. Allora, tu che non stai facendo niente, sta semplicemente mangiando, ma niente di che, vai a fare una passeggiata breve con il povero Ross, che almeno fa la pipì, perché non ho voglia di portarlo, ma io sono Ruben Lotario, quindi lo posso fare, e lui lo mando a letto un pochetteo, un pochetteo che è italiano, anzi che è dialetto, perché è esausto, quindi. Allora, mi avete detto che il discorso motivante che io non riuscivo a fare è perché in realtà è un discorso ispirato, non fiducioso, come invece è scritto nella descrizione dell'incarico, il che uno dice estica, ecco. Comunque, vabbè, adesso dobbiamo fare un dibattito per la... ah, inizia un dibattito per la politica di sinistra o di destra, discuti dei cambi di quartiere con due vicini, che palle, mi tocca andare a bussare i vicini, vabbè, intanto lo lasciamo pisolare un pochettino, mentre lei, che durante la puntata se ne andrà, mi porta a spasso Ercane. Ora, non vi ho neanche chiesto chi ci portiamo in casa dopo, ma credo che quello sia rilevante, nel senso, prima una, poi l'altra e ci siamo. E, 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 cosa volevo farvi vedere? Anzi, quanto manca a Leone? Cinque giorni, quindi saranno tre, credo, alla fine dell'episodio, quindi non il prossimo episodio, ma quello dopo ancora diventa un adolescente. e io sono stata da nonna Piper e, vi ricordate, vi avevo detto che per dare soldi a Ruben, per potersi permettere questo appartamento gigantesco, avevo dovuto praticamente vendere tre quarti della casa di Piper, questo perché non si possono utilizzare trucchi, quindi abbiamo dovuto fare alla vecchia maniera. E niente, sostanzialmente, cos'è successo? È successo che ho dovuto ingegnarmi, perché, come vi dicevo, quando Leone sarà grande, li cominceremo a far costruire il razzo, come vuole la sua generazione, ma io qui non posso mettermi il razzo in terrazzo, e quindi avevamo detto di metterlo nel giardino di nonna Piper. Quindi, cosa faremo? Andremo da nonna Piper e magari passeremo anche la notte lì. Quindi, cosa ho fatto? Ho rovesciato il reparto giorno, la zona divano, in realtà. Ci ho messo il divano letto e ho girato il tavolino della televisione, in modo che possano utilizzare comunque il divano, ma se loro dovessero fermarsi a dormire, hanno il divano letto, in modo da non costruire nessuna stanza secondaria. Anche se ho visto che, nonostante io fossi rimasta a secco di soldi con loro, praticamente, avendoli tolti dalle famiglie preferite, insomma, avendo tolto il cuoricino, ma non ha fatto la pipì, sto fanfarone. E praticamente loro, continuando ad andare a lavorare con la pensione, perché loro percepiscono la pensione, si sono rifatti. Quindi hanno un sacco di soldi, fra virgolette. Sacco, intendo, fra virgolette. Quindi, buon per loro, quasi quasi. Stavo pensando di dargliene un pochettino a lui. Più che altro, perché dopo i soldi, molti dei soldi di lui saranno utilizzati da leone quando andrà via di casa. Quindi è tutto un passarsi soldi. Più soldi abbiamo, più ne possiamo spendere, più siamo tranquilli, diciamo. Questa è la teoria. E se sto cane vuole pisciare, mi farebbe anche una cortesia. Proprio in quel punto lì, sai? Vabbè, falla lì, non mi interessa, basta che tu la faccia. Ok, allora, l'ha fatta molto, molto bene. Quindi sguinzagliamolo e iniziamo. Non credo me lo faccia fare con lei. No, sta andando via infatti. Ci conosciamo? No, molto bene. Nuovo amico. O amica, non ho neanche guardato, ma dall'abbigliamento sembrerebbe un uomo. Luca Parisi, direi proprio di sì. Boh, dibatti di politica di sinistra. Vabbè, imbarazzato, ma intanto me l'ha fatto. E lui non so se sia un vicino di casa per poter discutere dei cambi di quartiere o quello che è. Io provo a guardare se c'è, ma non credo rientri nelle azioni fattibili con lui. No, infatti, arca miseria, ci hanno disattivato la fornitura elettrica. Non abbiamo pagato le bollette. Infatti, è vero adesso che faccio mente locale, nello scorso episodio mi ero dimenticata di pagarle. Ops. Ma tu vuoi andare a dormire? Cioè, mi servi? Fai tu. In più, ho abbandonato giù il cane, ma credo che... lui non sappia venire su da solo. Ma no! Ma porca miseria. E... fai una ramanzina per i giochi sulle pozze. E papà, un attimo solo. Devo andarlo a recuperare. Non so perché ho avuto... ve l'avrò detto un trilione di volte, tipo... ho già avuto cani in appartamento, eppure sono sempre andati tutti giù. Sempre. Se raccogli la cacca e poi torni a casa, mi fai un favore. Grazie. Così lo portiamo su, lo laviamo e poi andiamo a importunare i vicini per discutere dei cambi di quartiere. Non so chi tu sia, non mi interessa, quindi... Oh signore, il cane è sparito di nuovo. Ma porca miseria, sti maledetti bug. Ma Cristo di un santo cielo. Niente raga, devo fare come l'altra volta. Siccome il cane non apparirà da solo, purtroppo, bisogna uscire dall'unità familiare e rientrare. L'altra volta è ricomparso, quindi proviamo. Eccoci. E infatti il cane è magicamente riapparso. Ma cos'è sta stregoneria? Allora, facciamogli un bagno, perché non voglio avere il cane spusoente. Il cane è puffoente! Eeeh! Cammina tra la gente! Eeeh! Chi è che non la conosce questa? È proprio impertinente! Eeeh! Il cane è puffoente! Oh! Tipo, devo avervi tolto un timpano, probabilmente. Me lo sono tolta da sola, quindi pensate un po' voi come sto presa. Eeeh! Però io mi ricordo quando ero giovine! Eeeh! Parliamo più o meno di una decina d'anni fa, scherzi a parte. Quando andavo al liceo c'è stato il periodo in cui è uscito questo video, in cui poi il cane era un bassotto quello del video, non era neanche un alano come il nostro Ross. Vabbè, comunque poco importa. C'era questo cane. Andatevelo a cercare qua su YouTube. Scrivete il cane puffoente, con la F. Puffoente. Un po' alla giovanotti. Vabbè, allora, tu mi servi e adesso sei abbastanza... Eeeh! Porca miseria! C'è il bambino in doccia. Aspettiamo un attimo. Adesso lui va a fare i compiti e tu hai il bagno libero. Molto bene! Ah, gli abiti sono già puliti. E perché sono lì? Io ste roba ogni tanto non... non le capisco. Cioè, nella cesta c'è roba pulita. Com'è possibile? Qualcuno ha mai capito questo mistero misterioso? Cioè, adesso vuol dire che io devo prendere un'altra cesta? Boh! Vabbè, laviamo sta roba intanto. Eeeh? Tu stai facendo i compiti? Tu stai dormendo? Tu ho malgrado? No! Proviamo ad andare a vedere se c'è... Oh, guarda! Lei è qui e lui è fuori. Molto bene! Proprio questo volevo fare. Discutere dei cambi di quartiere con i miei vicini di casa. Prima l'uno, poi l'altro poco cambia. Dobbiamo farlo. Quindi... E... Ah, eccolo qua. Eh, l'avevo visto, ma ogni tanto penso di avere tipo le trabegole. Perché mi è entrata in casa? Codè sta persona? Ecco, niente. Victor è rientrato in casa. Però adesso è riuscito, quindi... Credo... Ma io con chi sto parlando? Hanno lo stesso sacchetto in testa, porca miseria. Ah, credo con lei a rigor di logica, però hanno lo stesso sacchetto. Di solito il sacchetto è diverso. Vabbè, va a par... Ma porca miseria, ma la smetti di andare avanti indietro, avanti indietro, indietro avanti! Mi fai mal di mare! Oh! Victor, va che so stufo morto! Vieni in fora, te prego! Bravo, Victor! Dai! The third is the charm, dicono. La terza è la volta buona. E... Parliamo di sti cambi del quartiere, non gliene fregano an'amazza fava nessuno. Ma porca di quella... Mmm... Ma poi non ne hanno neanche parlato! Vai a parlarne! Ascolta, dovete dire... Ah, hai visto i nuovi vicini? Sì, li ho visti! Basta! Non dovete dirvi altro. Allora vai qui, dai! Ah, bene, si è anche rotto il cestino, molto bene. Discuti dei cambi nel corsetto, ti prego, ci mettete tre nanosecondi. Era difficile? Lamentati col padrone di casa. Certo, sei in regola con i pagamenti, quindi vengo a darti retta. No, vengo a dare un'occhiata in realtà, però vabbè, la mia versione mi piaceva di più. Allora, così, 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 vieni a raggiustare la casetta delle bambole. Qui sembra tutto a posto, però non richiamarmi troppo presto. Io ti richiamo quando mi pare piace, punto. Nel momento in cui sono in affitto, i cavoli sono tuoi. Altrimenti mi compravo una casa e i cavoli erano i miei. Te ne vai! So. E adesso con sto cesto buggato, porca miseria, sostituiamolo, dai. Teniamone uno identico. Porca miseria, ma che incastramenti avevo fatto. Incastramenti, poi, direi. Un italiano mega coreggiuto, con un R pure. Cioè, oltre il danno, anche la beffa. Comunque, vabbè, e allora, sì. Eh, vabbè, mi sembra solo giusto. Allora, qua usato, ti pareva. E tre. Terza lavatrice per questo... Per questo round di bucato, chiamiamolo così. Non saprei nemmeno io come chiamarlo. Anche perché è imbarazzante. Ok, allora, lui è in cazzetto nero. Perché i vicini mi sa che stanno facendo casino. Ma io direi che quasi quasi con lei la chiudiamo qua. Chiediamo di essere solo amici. Ecco, cioè. Vabbè, vabbè. Abbiamo capito. Che non era destino che le cose andassero. E la mandiamo via di casa. Separiamo dall'unità familiare. E in modo che in giornata poi chiediamo... Quasi quasi alla Nancy Langrab. Di venire a convivere. Perché mi avete detto che hanno un sacco di soldi. Quindi lei la mandiamo via. Le diamo... Non le diamo neanche niente, raga. Non le diamo niente. È tutto mio. Adesso verrò catapultata di là. Ma torno subito. Oh, K. Rientrati in gioco. Adesso. Tu intanto te ne vai, Poaretta. L'ho mandata via senza neanche una lira, però. Sono proprio una bruttissima persona. Sono degno figlio di mia madre. Allora, dicevo. Temporeggiamo un pochettino. Vediamo se magari la smettono da soli. Di far casino. Altrimenti dovrò andare a bussare. Hanno smesso da soli. Molto, molto bene. Sto cane che ha bisogno di andare a fare i suoi bisogni ogni tre secondi. È che purtroppo, avendo lui bambino, cioè non riesco a... A farglielo fare a lui. Se no, una volta vado io, una volta vai tu. In base alla disponibilità, il gioco era fatto. E invece mi sa che il cane o me la farà in casa, a un certo punto arriverà anche a scoppiare, o non lo so. Mi va bene, raga. Dai, va bene, va bene. Va bene. Metti guinzaglio, dai. Ecco, la vacca. La vacca stracca. Qui c'è il disastro. Spiegatemi, Penny Pizzaz, a cosa serviva se neanche mi spicciava casa. Cioè, fatemi capì. Com'è la situa. Non capisco, va bene, non importa. Sarà niente, si diceva, no? Ah, cosa ti manca da fare? Niente, per questa giornata lavorativa abbiamo fatto tutto, quindi ci riteniamo anche soddisfatti, in realtà. Ma, orca, miseria, sta male il cane. Volete dirmi che, dandogli il dolcetto del benessere, magari mi si risolve anche il problema della vescica, perché dovrebbe tirargli su tutto, in teoria, no? Beh, vediamo. Vediamo. No. Niente, lo guarisce e basta. Non succede niente dal punto di vista degli altri bisogni. Uh, la lotteria. Non la vinceremo mai, avete presente? Ecco, mai. Portiamo giù Ross. Facciamogli fare i bisogni. Lavoriamo da casa, ovviamente. Non siamo stati promossi, ma sono piuttosto fiduciosa che invece domani saremo promossi. Ok, va bene, allora. Torniamo a casa. Beh, la cacca adesso la lascio là. Ho deciso che la lascio là. Sguinzaliamo il cane. Adesso mi sparirà di nuovo, se tutto va bene. Perché, ehm, ovviamente. E dobbiamo fare una barzelletta sui politici e un murale politico. Murale politico mi ci vorrà tipo mezza giornata, se tutto va bene. Però, stavo pensando, no? Stavo pensando. Che quasi quasi, se ci sta, ma non ci starà mai, potrei mettere il coso del murale qui. Magari spostando la porta in qua, in modo da farlo qui in casa e non andare in giro. Queste cose le sposto. Dai, prova a vedere se ci sta. Allora, c'è stato, spostando la porta di uno, i giochi li ho messi qui, mentre la cuccia l'ho messa di qua in camera, visto che lui dorme molto spesso in camera, e i fiori li ho spostati qua. Tanto, per andare in questo ufficetto, non ci andiamo mai, perché il sim non riesce a fare sto giro qua per sedersi. Quindi, comunque, è una stanza inutilizzata. E, detto questo, direi che possiamo cominciare a farlo. Un murale politico. Non sarà mai rosso, mai, nella vita. E gli ci vorranno, tipo, dieci giorni per farlo. Però, almeno, siamo a casa e ci prendiamo le pause che ci servono, andiamo in bagno se ci serve. Insomma, direi che ha i suoi lati positivi. Lui, poi, è già stanco, il che, raga, mi spona non proprio. Sentite che termini da persona giovane e che utilizzo. Acquistiamo anche un biglietto della lotteria, poi, fra parentesi, non dimentichiamocelo. Ma, non la vinceremo mai, la lotteria. Mai nella vita. non piangere, che c'è di peggio nella vita. Devi nascere una vittima di Piper. Ok, dai, interrompi un attimo. è in grossi guai, chiaramente. Bisogna sempre farla peggio di com'è. Andiamo a mangiare qualcosa. Un pasto veloce. Ah, aspettate. Una barzelletta sui politici. Raccontiamola a lui. Al nostro uomo delle pulizie. in modo che ce la leviamo dalle scatole e non dobbiamo andare alla ricerca di nessun altro. Non so se riusciremo a far tutto, raga, perché ci tengo onestamente un po' di più a fare gli incarichi del lavoro in modo da essere promossa. Una barzelletta sui politici. È sul buffo. E perché io non ce l'ho? Sui marziani. Racconta una storia buffa. Vediamo se mi sblocca qualcosa. No, mi sblocca una mazza. Va bene, ciao. E coi punti che abbiamo, pozioni, compriamo la pozione della... No, il solutore degli stati umorali. No, mi piace essere ispirata. La pozione sostituto del sonno. Ispirata potrebbe aiutarmi... Eh, non ti pareva. Potrebbe aiutarmi nel mio intento di fare il murales. Eh, infatti. Quindi, molto buono. Ci bastava solo fare un po' di carico di energie. Oh mio Dio, raga! No! Ross! No, non così! Non so dove piedi! No! No, fermati! Fermati! Oddio! Non ci credo! Oh mio Dio, scusate, raga, ma sto collassando! Sto collassando il tristo mietitore che sta ai pack di quartiere e si mette il sacchetto! Posso sempre essere il tristo mietitore pur rispettando le regole. Non ci credo! E poi è buggatissimo! Guardate che roba! No, no, vabbè, non ci credo, raga, non ci credo, fantastico! Allora, Ross, sapevamo che era anziano, diciamo, ci era stato detto. Tu continua il murale! Senza cuore! Eh, ho delle cose da fare, insomma. Ross, non lo porto a nessun cimitero, perché tanto non ci interessa. Volevo vedere se riuscivo a metterlo da qualche parte, tipo l'urna, per l'appunto. Eh, però, sopra il camino, volendo, qua sopra, al piano di sopra. Bah, ora vediamo se prendere un altro animale. Quasi quasi potremmo sì prenderne un altro, voi che dite? Magari non in questo episodio, nel prossimo o quello dopo. Leone manco si è reso conto di niente, ma si trova questo, con il vestito nero, in casa, col sacchetto in testa, di... Scusi, scusi lei! Scusi ma, cosa vuole da me? Vabbè, finiamo sto benedetto murale, malefico proprio. E non so se riusciamo a far venire qui la Nancy. Forse a chiederle di convivere, forse anche sì. Vediamo un attimo. Nancy, bah, forse a chiederle di convivere, sì. Poi, eventualmente, la facciamo divorziare nel prossimo episodio. Voi cosa dite? Adesso vediamo un attimo, perché volevo pigliarmi tutti i soldi della casa. Quindi questo vuol dire liberarmi degli altri componenti. Adesso architettiamo un modo, se non è questo episodio, è il prossimo. E intanto qui siamo a tre quarti. Vi ho detto che vuoi fare il murale se è la storia infinita. Aggiungi del me la cu, ma zonta quello che te vuoi. Quello che te vuoi è più dialetto del mio fidanzato. Qua da me si dice quello che te vuoi. Zonta quello che te vuoi. Te vuoi. Quello che te vuoi, no, con la o stretta. Ecco, dopo cinque anni cambiando provincia, un giorno sì, il giorno dopo pure, prendi praticamente molte cadenze dell'altra provincia. Che magari sono solo un cambio di pronuncia con una lettera più larga, più stretta, o semplicemente una lettera in più, una lettera in meno, però. Così, tanto per sproloquiare. No, non voglio parlarti. Ho mia madre che sta attendendo che io le risponda da tipo cinque ore, poveretta. probabilmente è anche morta ad aspettare che io risponda, ma quello è un altro discorso. Quindi figurati se rispondo a te quando ho mia madre in attesa. Vabbè dai, qua ormai ci siamo, mancano giusto gli ultimi ritocchi. Oppala, bene, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo detto niente, proprio. E i nostri incarichi al lavoro, tranne la barzelletta sui politici, mannaggia. Ma non ce l'abbiamo neanche. No, non ce l'abbiamo, vabbè. Insomma, non siamo messi male, assolutamente. Solo che se non è domani, dopo domani che veniamo promossi. Secondo me, dopo domani, perché non c'è ancora la spuntina gialla. Quindi, adesso tocca farle a te, ste cose. Sapete cosa facciamo, raga? Io quasi quasi farei le ultime due cose, vista anche l'ora. E poi con la Nancy facciamo tutto nel prossimo episodio. In modo che, sì, insomma, facciamo dalla A alla Z senza interrompere, senza problemi, eccetera. Quindi direi che è la soluzione migliore. La prossima volta, cosa facciamo? Non festeggiamo. O sì, mancano tre giorni. Ma provate un attimo, adesso c'è il calendario. No, domenica è il suo compleanno. Noi domani, la prossima volta facciamo venerdì e sabato, niente. Quindi, come avevo detto giustamente all'inizio, non festeggiamo il compleanno di Ruben, perché non sarà il suo compleanno. Inviteremo da noi la Nancy, che era la seconda in ordine, in base alle votazioni che avevate fatto voi l'altra volta. e la faremo vivere qui e la faremo divorziare dal marito, ovviamente prendendoci sia i suoi soldi, sia i soldi della casa e quant'altro. Scopriremo chi ha vinto la lotteria, ma non saremo sicuramente noi. E penso che riusciremo, insomma, a essere promossi al livello 10 della carriera di politico, concludendo anche il penultimo punto che ci manca con la Generazione Rossa, perché, come vi dico sempre, l'ultimo per Ruben è sposarsi in età anziana. Ma quello, finché il signorino non mi diventa anziano, non lo possiamo fare. Io, quindi, dopo questo mega riassunto, anzi, questo, nei prossimi episodi di Not So Very Challenge, vi lascio qua per questo episodio. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!